Il quartiere Arcella le sue contraddizioni. San Bellino è un rione nel quale da anni i residenti chiedono riqualificazione, lotta al degrado e più sicurezza. Chiesa, scuole, negozi e piazzetta. Il comune stanzia 240 mila euro e si parte da via Bramante. I parcheggi sono molto utili nei quartieri, quindi dobbiamo ricavare parcheggio anche per le attività commerciali che vogliamo che rimangano nei nostri quartieri. Oggi vediamo una serranda abbassata, un negozio chiuso, con un cartello scritto affittasi. Noi dobbiamo contrastare questo tipo di fenomeni. Nella piazzetta invece più illuminazione, aree verdi, arredo urbano migliorato e panchine per rendere la piazza più sicura e ospitale. È uno schifo. Perché? Perché non si fanno i lavori in questa maniera, si blocca eventualmente il marciapiede e si fanno i lavori come vanno fatti, non permettendo ai ragazzi e alle persone adulte di andare in bicicletta sui marciapiedi. Se i soldi ci sono, benvengano per sistemare la piazza, fare una cosa più bellina, più illuminata. Per me sì. I residenti ne sentono il bisogno? Non lo so, gli altri, diciamo che un po' di luce in più, ci sentiamo anche un po' più sicuri. Io ci abito proprio nella piazzetta, va bene così tanto, comunque può spendere tutto quello che vuole il comune, per me va bene.